Questa sera voglio prepararmi un'insalata di finocchio detossinante, detox. Il finocchio ha innumerevoli proprietà digestive, aiuta anche a disintossicare l'organismo e come andrò a condirlo ovviamente sarà ancora più detox. Il finocchio tra l'altro è buonissimo, a me piace in tutti i modi, crudo lo apprezzo ancora di più e ovviamente come tutte le verdure crude mantiene ancora meglio le sue proprietà. Quindi visto che le feste sono passate da un po' ma comunque magari con la vita di oggi si tende a mangiare a volte di fretta e magari anche male, quando si è del tempo prepararsi comunque un'insalata così detox che fa molto bene al nostro organismo è sicuramente una gran cosa. Vado a condirlo con olio, ovviamente olio evo, quindi extravergine di oliva, sale iposodico, questo della Novo Sal e andrò a utilizzare due ingredienti detox antinfiammatori e antiossidanti come l'aceto di mele che è ricco di polifenoli dell'uva e quindi ci aiuta come antiossidante oltre che a un'azione antinfiammatoria e dopodiché utilizzerò lo zenzero che è veramente una manna. Ci aiuta nell'attività digestiva quindi a digerire bene e a disintossicare il nostro organismo. Ed eccola qua, un'insalata semplicissima, pronta veramente in due minuti, detox, gustosa e che fa veramente molto bene al nostro organismo. Buon appetito! Iscrivetevi al canale e mi raccomando lasciatemi un like di supporto. Ciao!